La domanda di oggi è che cos'è l'economia sacramentale, cioè come si realizza? Come si realizza? Allora evidentemente Cristo è venuto per rivelarci la sua vita intima che egli vive con il Padre nello Spirito Santo. Sì, giusto. Noi sappiamo che quali sono Dante i misteri, i due misteri principali della fede? L'incarnazione e la trinità. Prima la trinità di Dio e poi l'incarnazione della seconda persona della Santissima Trinità. Allora tutto deriva dalla trinità di Dio. Gesù è venuto per salvarci e ma come ci salva? Rivelandoci la vita intima di Dio che è la trinità e inserendoci attraverso la partecipazione alla sua umanità unita alla persona divina del verbo nella vita intima della trinità. Questo accade nella liturgia, questo accade nella vita sacramentale, perché nella vita sacramentale vediamo proprio la stessa dinamica. La liturgia poi non è solo la messa, perché ogni tanto uno pensa che la liturgia è solo la messa. No, la liturgia sono tutti i sacramenti, ma è anche la liturgia delle ore per esempio che realizza, cioè il breviario, che dicono i preti, no, non dicono i preti, dovrebbero dirlo tutti, però la situazione è talmente disastrovia che sono ridotti a dirlo soltanto i preti e neanche quel tutto. Anche i diaconi però, eh? Anche i diaconi, non tutto. Un po', sì, non tutto, però un po'. Vabbè. Quindi liturgia è tutto questo complesso di cose. La liturgia è tutto questo complesso di cose che ha come centro il Padre, perché evidentemente è il Padre il centro di tutto, è il Padre che ci colma delle sue benedizioni, è il Padre che fonde nei nostri cuori lo Spirito Santo e nel contempo tutto ritorna al Padre, perché così come tutta la realtà ritorna al Padre, così la liturgia è la benedizione che la Chiesa fa nei confronti del Padre, l'adorazione, la lode, l'azione di grazie implora il dono del Figlio e dello Spirito Santo, quindi tutto procede dal Padre e tutto ritorna al Padre. Ecco, ma allora per esempio quelli che pregano i Santi o la Madonna? Beh, perché i Santi e la Madonna sono tali perché glieli ha concesso il Padre, glieli ha concesso il Padre. Comunque sia la liturgia è sempre rivolta al Padre, quando noi facciamo caso alle formule liturgiche, tranne alcune venerabili eccezioni, ma generalmente la liturgia è rivolta al Padre, la preghiera eucaristica è rivolta al Padre, le orazioni della Messa sono rivolte al Padre, gli inni della liturgia delle ore sono per lo più rivolti al Padre, alcuni anche a Cristo, alcuni alla Madonna e i Santi, ma generalmente sono più tardivi questi, ma in ogni caso se sono rivolte a Cristo, alla Madonna e i Santi è sempre per adorare ciò che il Padre ha fatto in Gesù Cristo nella Madonna e nei Santi. Quindi è il Padre, e allora Gesù cosa c'entra? Gesù evidentemente è colui che realizza l'opera del Padre, come attraverso il proprio mistero pasquale, cioè la sua morte e la sua risurrezione. Infatti cosa diciamo subito dopo la consacrazione del pane e del vino, annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Quindi annunciamo la tua morte, annunciamo adesso la tua morte, è accaduta adesso la tua morte, perché il mistero pasquale rende presente la morte di Cristo. Proclamiamo la tua risurrezione perché adesso Cristo risorte presente davanti a noi nella liturgia, nella attesa della sua venuta perché evidentemente quando egli verrà non ci sarà più bisogno di liturgia, non ci saranno più bisogno di segni, ma adesso c'è bisogno dei segni, ma i segni realizzano ciò che significano. Dunque Cristo è colui che attraverso il dono dello Spirito Santo agli Apostoli dà agli Apostoli e ai loro successori il potere di attuare l'opera della salvezza attraverso la liturgia, il cui centro è evidentemente il sacrificio eucaristico. Quindi ogni liturgia di fatto è sempre un ricordo dell'offerta di Gesù? Ogni liturgia è sempre un ricordo e un'attualizzazione dell'offerta di Gesù, non è semplicemente un ricordo di ciò che è accaduto duemila anni fa, ma una celebrazione di ciò che avviene adesso. Vabbè poi questa cosa che magari la traduciamo nei sacramenti perché non è che capisco tanto bene cosa vuol dire, non so per esempio nell'Eucaristia si capisce, nel battesimo per forza si capisce perché quello è, ma per esempio nell'ordinazione sacerdotale. Nell'ordinazione sacerdotale il fatto che evidentemente ad alcuni uomini viene data la potestà di operare questo a nome di Cristo come Cristo capo e quindi nell'ordinazione sacerdotale alcuni uomini sono Cristo capo, non perché loro sono belli, bravi, intelligenti, studiati. Ecco ma in che senso si diventano sacerdoti? Cosa c'entra con la morte per esempio e la scurrezione di Cristo questo? Perché evidentemente esercitano l'ufficio sacerdotale di Cristo soprattutto nella celebrazione dell'Eucaristia, quindi è Cristo che in loro agisce, è Cristo che per mezzo di loro agisce. Quando io celebro la messa non sono io che agisco ma presto le mie parole, i miei gesti in obbedienza a ciò che dispone la Chiesa per far sì che Cristo sia presente. E attui quello che dice. E attui è quello che io dico. Ogni tanto sai mi dicono ma lei che è paroco di Santa Maria degli Angeli ma non le dà fastidio che la gente non la vede in faccia quando lei celebra la messa? E io scherzando dico perché c'è il di mezzo, il tramezzo per cui non si vede, generalmente il prete non lo si vede. Io dico ma io preferisco di gran lunga che vedano la crocifissione dell'Uini piuttosto che la mia faccia perché quello che è importante non è la mia persona ma è ciò che io dico, ciò che io faccio in obbedienza alla Chiesa. Ecco ma il Padre l'abbiamo visto, il Figlio l'abbiamo visto, lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo evidentemente è colui che rende presente e attualizza il mistero di Cristo. Quindi Cristo è la via di comunicazione per il Padre, lo Spirito Santo è colui che rende presente Cristo ed è donato alla Chiesa nel senso che la prepara a incontrare il suo Signore, fa sì che la Chiesa ricordi e manifesti Cristo alla fede dell'Assemblea e rende presente il mistero di Cristo e lo rende attuale, lo rende effettivo. Cioè è per lo Spirito, dunque è per il Cristo che noi conosciamo il Padre, se non ci fosse Cristo il Padre sarebbe sconosciuto, è per lo Spirito Santo che Cristo è presente a noi adesso attraverso i doni sacramentali, il dono del suo Spirito.